Dottoressa De Santis, si parla della variante Kraken, ci può illustrare alcune caratteristiche, da dove deriva? Fa sempre parte della famiglia delle varianti Omicron, sta circolando notevolmente negli Stati Uniti e in Cina. Sono stati registrati però anche dei sequenziamenti anche in Europa ed anche in Italia. È più contagiosa senz'altro delle altre varianti, si diffonde molto rapidamente, molto facilmente, ha un rapporto di 1 a 15, nel senso che un malato può infettare 15 persone, però non sembra avere una maggior patogenicità, quindi non dare forme più gravi rispetto alle varianti precedenti. Quali sono i sintomi? I sintomi sono quelli simili all'influenza, quindi mal di gola, tosse, sintomi per lo più delle alte vie respiratorie, raffreddore, dolore alle ossa, le articolazioni, a volte sintomi gastrointestinali. L'efficacia dei vaccini sulla variante? Il vaccino più efficace è sicuramente l'ultimo, quello bivalente contro le varianti Omicron, B4, B5, che sono comunque parenti della variante Kraken. Quindi chi non ha ancora fatto questo vaccino, che si utilizza per la quarta dose e la quinta dose, è assolutamente necessario che lo esegua, perché comunque dà una protezione, anche contro l'infezione. Stimola infatti non solo gli anticorpi, che abbiamo visto che vengono in qualche modo elusi dalla variante, ma stimola anche l'immunità cellulare, quindi i linfociti T, che invece riescono a riconoscere il virus in più punti e sono quindi molto più efficaci nel prevenire l'infezione.